Consiglio comunale ieri sera a Palazzo San Francesco a Sarno, all'ordine del giorno, il rendiconto di gestione per l'anno 2022. Un documento importante per l'ente comunale nel quale sono rappresentate le entrate e le spese sostenute nell'anno trascorso. L'approvazione con i voti della maggioranza, il rendiconto 2022 ha avuto il parere favorevole dall'organo revisore. L'assise è stata anche un momento per fare il punto della situazione sullo stato di salute delle casse dell'ente di Sarno, del rapporto con le partecipate insieme all'assessore Francesco Spillante. Un quadro completo dunque che vede un comune con un avanzo di amministrazione e che progetta guardando avanti progettualità di crescita territoriale, di sviluppo e di impresa. Diciamo che con questo atto si chiude quello che è l'attività di un ente pubblico, in particolare del comune di Sarno, dove c'è la fotografia chiara e molto molto articolata di quello che i comuni, il comune di Sarno, ha speso o è entrato. Qual è il bilancio che si traccia rispetto a questo rendiconto? Diciamo che questo consuntivo è stato un atto post fine emergenza perché, come tutti ricordiamo, il 31 marzo 2022 è terminata l'emergenza Covid. Nell'anno 2021 lo Stato aveva cercato di supportare gli enti per poter affrontare tutto quello che erano le spese. Nel 2022 si è avuta una riduzione, anche però bisogna dire che l'effetto Covid da un punto di vista amministrativo e di attività economiche lo abbiamo subito, soprattutto nel 2022. Quindi ci sono stati chiaramente delle criticità, come si guarda però al futuro? Siamo insomma a 2023. Ci sono state delle criticità, però possiamo dire che siamo intervenuti in tutti quei settori che poi sono di interesse anche del cittadino. Abbiamo messo comunque 700 mila euro, abbiamo speso circa 700 mila euro di fondi comunali nel settore delle politiche sociali, siamo intervenuti su determinati tipi di attività, abbiamo avuto delle emergenze, abbiamo anche avuto la possibilità di avviare il bonus tari per il 2022. Poi nel previsionale 2023 ci sarà una restante parte che invece andremo a spalmare sull'intera utenza domestica del Comune di Sarno per cercare di far sì che tutti i cittadini vengano considerati nello stesso modo, una sorta di equità fiscale e quindi anche di equità da un punto di vista di bonus e riduzione della tari. Possiamo dire che nel 2022 siamo intervenuti per far sì che i lavori della zona PIP non finissero e non si interrompessero, ma con una delibera di giunta di circa un milione di euro, nonostante le difficoltà bisogna dire, perché bisogna dire sempre la verità, nonostante le difficoltà che continuiamo a vivere, ma credo che nel 2023 ci sarà la chiusura di una serie di problematiche che viviamo come cittadini, come amministratori e come imprenditori. Lo stato di salute delle casse del Comune di Sarno? Credo che siamo un Comune che sta molto meglio di tutti gli altri Comuni della stessa grandezza. Non possiamo paragonarci ai Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, dobbiamo paragonarci a tutti quei Comuni che si trovano al di sopra dei 15.000 abitanti, diciamo quelli che vivono il doppio turno quando si va a votare. Viviamo in maniera molto chiara solamente dei fondi da parte dello Stato, dal Fondo di Solidarità Comunale e poi riusciamo ad intervenire su tutte le altre problematiche con tutto ciò che riusciamo a recuperare attraverso anche tasse e tributi che i cittadini in maniera giusta e nonostante ci sono delle difficoltà riescono a far entrare nel Comune di Sarno, però sostanzialmente sono delle casse buone. Quando parliamo proprio di casse comunali non possiamo non parlare di partecipate, del lavoro che stanno svolgendo le partecipate? Voi ci avete puntato tanto? Ci abbiamo puntato tanto, su alcune partecipate ci siamo trovati a dover affrontare problemi, come ho detto poc'anzi l'Agenzia Valle del Sarno che però nel 2023 vedrà la fine dei lavori della zona PIP, Cofaser che ha subito e che ha un patrimonio netto negativo, ma quest'anno 2022, per essere più precisi, ha avuto un utile di circa 300.000 euro che ha fatto sì che il patrimonio netto negativo diminuisse. La Sarno Servizi che è partita sostanzialmente nell'aprile del 2022 con alcuni servizi, sosta a pagamento e gestione delle lampade votive, ha chiuso con un utile di 7.000 euro, fine anno gli abbiamo trasferito altri servizi che è il Comune ad oggi non ha ancora inoltrato quello che è il canone di fitto che è di circa 500.000 euro, lo farà appena approveremo il bilancio previsionale che sarà domani sera in Consiglio Comunale.